Con la delibera di oggi abbiamo messo ordine al piano epidemiologico della regione Mila-Romagna sui test sierologici, innanzitutto affermando una volta per tutte che la diagnosi per il Covid-19 si effettua ancora con il tampone nasofaringeo e di questi noi facciamo 5.000 al giorno, arriveremo a maggio a farne 10.000 al giorno e ci stiamo attrezzando con degli investimenti importanti per arrivare all'autunno almeno a triplicare la potenza di questi giorni, quindi almeno 15.000 tamponi al giorno. Nel frattempo la regione ha avviato per prima in Italia l'indagine epidemiologica sui test sierologici che sono il cosiddetto pungidito oppure l'esame ematico per la ricerca di anticorpi più recenti o più antichi che attestano il passaggio diciamo nel nostro organismo della infezione da Covid per svolgere un'indagine su larga scala. Abbiamo già testato 80.000 tra professionisti della sanità, forze dell'ordine, protezione civile e faremo altri giri da qui a fine giugno. partiranno campagne di test a tappeto a Piacenza, a Medicina e a Rimini e poi abbiamo accreditato una quarantina, ma ne faremo ancora, di laboratori privati il cui procedimento diagnostico per quello che riguarda il test sierologico ci sembra affidabile e questi potranno rivolgersi ovviamente alle aziende, ai privati cittadini i quali però dovranno avere la diciamo così la ricetta bianca del proprio medico di fiducia, in particolare del medico di medicina generale. Perché questo? Perché i medici? Perché è importante dare ai cittadini l'informazione giusta, perché se un cittadino dovesse avere diritto al tampone perché è sintomatico, il medico di medicina generale sarebbe in grado di indirizzarlo in questo senso. Oppure se la ragione per la quale chiedesse il test sierologico non si configurasse come appropriata, il medico potrebbe indirizzarlo sempre nel migliore dei modi. Con questa nostra delibera, con il fatto che oggi abbiamo messo ordine in questa materia, proseguiremo questa nostra indagine epidemiologica con l'obiettivo di arrivare da qui almeno a fine giugno ad aver testato quasi il 10 per cento della popolazione dell'Emilia-Romagna.